Buongiorno a tutti cari utenti. Finalmente da lunedì 25 possiamo ripartire con le attività del nuoto libero e dal 3 giugno contiamo di ripartire con tutte le altre attività didattiche quali scuola nuoto adulti, acqua fitness, acquability e nuoto libero in vasca esterna. C'è un grande cambiamento ovvero che l'attività di nuoto libero sarà solo ed esclusivamente a prenotazione. Prenotazione che può essere telefonica consigliamo di farla via web alla pagina di natatorium.it sulla destra trovate la voce servizio online e potete registrarvi o se avete già le credenziali accedere con il codice fiscale e il PIN. Da là potrete acquistare o il biglietto singolo di nuoto libero piuttosto che l'abbonamento e di conseguenza prenotare il vostro spazio. Purtroppo gli accessi saranno limitati, lo sappiamo per il rispetto delle linee guida, pertanto vi chiediamo la massima collaborazione nel caso in cui si debba temporeggiare un pochino prima di entrare. Le norme sono state pubblicate sulla nostra pagina web, vi chiediamo di rispettarle chiaramente. Per la settimana dal 25 al 31 di maggio sarà previsto il nuoto libero solo in fasce orarie, ovvero si può stare un'ora e prenotare la fascia desiderata. Ci scusiamo se al telefono non riusciamo a rispondere, nel senso che stiamo riorganizzando tutto il gestionale e quindi c'è impossibile gestire le telefonate e attualmente anche le email. Pertanto chi chiede se può già prenotare gli spazi e sta provando a contattarci via mail o via telefono, se non riuscite a registrarvi tramite web il lunedì stesso cerchiamo di prenotare il vostro posto. A tal proposito, chi si presenta qua direttamente il giorno in cui vuole fare la nuotata potrà accedere se abbiamo disponibilità. Per quello consigliamo di crearvi il vostro profilo per poter fare tutto in autonomia. Lo stesso discorso vale anche per Selvana, a differenza che Selvana non ha il gestionale web perché l'affluenza è più bassa rispetto all'impianto di Santa Bona. Per Selvana potete prenotare telefonicamente o venendo direttamente in segreteria. La stessa cosa vale per gli abbonamenti open di Aqua Gym e di Aqua Ability. Non si potrà più arrivare qua ed entrare perché purtroppo i posti delle vasche piccole, chiamiamole così, sono molto più limitati. Pertanto anche qua stiamo implementando sempre sul portale la possibilità di prenotare il posto e acquistare ovviamente l'abbonamento allo stesso prezzo di quello che era fino a febbraio. Allora accedendo a natatorium.it, cliccando sulla destra su servizio online, potete registrarvi, accedere con Facebook. La registrazione prevede nome e cognome, data di nascita, email o cellulare, il sesso e si viene automaticamente caricati nel nostro gestionale. Questo perché tutti devono essere registrati anche gli ingressi sporadici perché i dati per linee guida, per protocolli devono essere conservati per 14 giorni. Sapete che ci sarà la misurazione della temperatura corporea, la firma sul modulo di autocertificazione del Covid-19. Quindi tutto il sistema sarà un po' più rallentato. Torniamo al portale web. Il momento in cui voi accedete con le vostre credenziali, alla voce abbonamenti vedete quello che potete acquistare, ovvero i 10 ingressi di nuoto libero, i 10 ingressi di acquability, i 10 ingressi di acqua fitness e anche l'abbonamento gestanti. Una volta che voi avete completato l'operazione e quindi aggiunto in carrello quello che volete acquistare pagato tramite carta di credito ve lo ritroverete in home page sui servizi attivi. Da qua potete iniziare a gestire le vostre prenotazioni. Quindi andando sulla voce prenotazioni vi compaiono i pacchetti che avete attivi. Per esempio andiamo con una prenotazione di uno spazio per il nuoto libero. Cliccando su utilizza e andando la settimana prossima con nuoto libero con prenotazione, ipotizziamo di volerci prenotare il 26 alle ore 10, cliccando su prenota la nostra prenotazione appunto va a buon fine. Potete anche acquistare il biglietto singolo tramite il pannello prenotazioni. Quindi anziché utilizzare i propri pacchetti se non li avete, quindi volete fare l'ingresso sporadico, cliccando su acquista una nuova prenotazione ci spostiamo su nuoto libero con prenotazione piuttosto che da giugno il feriale o il festivo. Andate a cliccare il giorno in cui volete entrare, andate a selezionarvi la fascia oraria, concludete l'acquisto. Nel momento in cui arriverete qua, ci sarà la misurazione della temperatura tramite un nuovo modulo, avremo un alert con i vostri dati anagrafici e indicata la prenotazione che avete acquistato. Da questo momento saremo noi ad aprirvi il tornello manualmente e potrete appunto entrare. Dall'1 giugno le fasce orarie per la vasca esterna saranno la mattina dalle 9 e mezza alle 13 e 45, poi dobbiamo chiudere l'impianto, pertanto non si potrà più stare tutto il giorno, dobbiamo sanificare per riaprire poi dalle 14 e 45 alle 19, per poi di nuovo svuotare l'impianto, risanificare e essere pronti per la mattina.